Ok, so dove sono, perfetto Ah, fammi capire qualcosa, please Non ho la stamina Eh, ce l'avevo? No, non ce l'avevo Per quale motivo avete così tanta paura? Porca miseria, ce l'attaccatemi Avrei voluto combattere anche con questo, ma come fai? Vabbè, GG E siamo tornati a Shulva Aia Cosa fai? Scendi te o salgo io? Cosa stiamo facendo? Vengo io? Eh, va bene Uh, dai, ora che ti ho raggiunto te ne vai? Ma porca Stiamo giocando a rincorrerci, eh Mio Dio, ma è in Fatroll Il mio vaso Saturno Interesting name Pretty much Eh 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 Eh, mi sono scordato che posso curarmi con questa build Uh GG Porca miseria Mi cura anche di un bel po' Non sono abituato a curarmi durante il PvP Quindi è normale che io mi stupisca Però sì, questo è il concetto di questa build HP Difesa Cure And such And good damage Wow Ascolta tizio Questo è buono Come Il bordello GG Mi è piaciuto che abbiamo messo un calore lì in mezzo Bello vedere gente in PvE che si diverte Mi piace un casino La magia a calore è troppo intelligente Mi è sempre piaciuta Bello spawnare qua Di nuovo Orstein Ah, ormai Orstein è il nostro migliore amico Let's go Bella 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 Ma scusa Perché curarsi così? A me non ha toccato il falò Sbada bam Uh, questa bo... Ah, ma c'è della lag Sì, vabbè Ma te hai visto un bel mondo Sì Ping 5 Ah, 7000 8000 di ping Sì, vabbè Vediamo di dov'è sto tizio Pure un backstab Sì, vabbè Allora, questo tizio è di profilo È turco GG Salve Sì, vabbè 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 ciao ciao non fare così per favore combatti ti ho lasciato combattere in pwe perché hai fatto così dai volevo soltanto combattere un po' io non mi ci metto mani nude a cazzeggiare cioè è una cosa che faccio in genere ma poteva fare alt f4 a sto punto e siamo nello scolo e ci hanno cacciato a casa va bene gg meglio lo scolo tra le arei peggiori è quella che mi dispiace un po' meno in realtà di nuovo lo scolo what the fuck ecco se capiti vicino all'host perché gg il mio invaso carlos e siamo ad aldia ed è le prese con forlon abbiamo un buon ping un po' meno E' andata fatta così, Carlos Mi invaso diavolo? Probabilmente Ita Sorry, siamo in compagnia di Freddy Ed è dentro la casa col Mimic Vediamo se mi riesce di fare una cosa simpatica Poi in realtà è antipatica come cosa Ah dai, ha avuto la meglio il Mimic Ma ti sembra? Ma dai Come on Freddy C'è un tizio che si chiama SoLevel1 Mi scoccio a rompergli le palle Ma ormai siamo qua Volevo fare attacco in salto Ah, mi dispiace Gigi Ah, pensavo fosse morto Ah, pensavo fosse morto Ah, pensavo fosse morto Ah, pensavo è morto Ah, pensavo essere morto E' un andato No le mie palle Speravo panicrollasse andando via Pensando che stessi per tirare un nuke pesante Va bene Questo qua sta laggando Non il padrone del mondo GG Sorry Ok